E se vi dicessi che tenere acceso il wifi dello smartphone quando non in uso potrebbe essere la cosa peggiore del mondo? Perché sì, non mentite, so che lo tenete acceso H24, voi per comodità, dimenticanza oppure soltanto semplice pigrizia, ma così facendo sarò franco? Ciao Franco! Mettete costantemente a rischio la vostra sicurezza, perché è di questo che parleremo nei prossimi minuti quest'oggi, di sicurezza. Dato che questo banale, direi anche quanto mai stupido dettaglio, potrebbe rivelarsi la vostra condanna a morte. Esagerato dite, beh lo scoprirete tra poco, perché quest'oggi voglio fare un esperimento con voi altri all'ascolto e coinvolgervi direttamente nella questione, per farvi meglio capire per quale ragione non dovreste mai, mai, mai lasciare acceso il wifi del vostro smartphone, del vostro tablet, del vostro computer, e simili quando camminate per strada o vi trovate in un qualche luogo pubblico. E rimanete con me fino alla fine, perché in coda al video vi rivelerò anche come recuperare la password di una rete wifi in pochissimi secondi, caso mai ve la foste dimenticata o voleste banalmente andare a scrocco altrove. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. E non meno ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì, ore 12.30. Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su IT Support per un nuovo episodio a tema cyber security, il quale vorrei startare con l'assunto di base forse scoraggiante che per i nostri smartphone, tutti gli smartphone, il concetto di privacy è cosa sconosciuta. Perché infatti tra i millemila dati e informazioni che essi raccolgono su di noi costantemente, vi sono anche tutte le reti wifi a cui ci siamo collegati sin dalla notte dei tempi. Nello specifico questa lista porta il nome di LRP, la quale potremmo definire per comodità una specie di lista delle reti preferite, al cui interno sono contenuti ovviamente, oltre che i nomi delle reti stesse, anche le password necessarie per collegarsi ad esse. E prima che possiate porvi dei dubbi, sappiate che questa lista per noi è di fondamentale importanza che esista, in quanto ci permette ogni volta che rientriamo a casa, andiamo da amici, parenti, al bar, al ristorante, dove ci pare, di collegarci automaticamente alle reti che essa contiene in memoria, senza dover per forza reinserire la password a manona ogni volta, e quindi comodissimo. Ma tornando a noi, i modi tramite cui avviene questa connessione automatica tra il nostro dispositivo e la rete wifi in questione sono principalmente due, e dipendono fondamentalmente dalla marca, dal modello e dalla tipologia del vostro smartphone. Il primo viene chiamato ricerca attiva, mediante la quale il cellulare invia costantemente la propria lista di reti preferite a tutte le reti wifi che si trovano nelle vicinanze, a seguito di cui, se il nome di una di queste viene riconosciuto, lo smartphone vi si andrà a connettere in automatico. I soldoni sarebbe come se voi andaste in giro H24 a urlare il nome di tutti i vostri amici a voce alta, pertanto, qualora qualcuno di loro vi sentisse, vi si potrebbe avvicinare iniziando a chiacchierare senza bisogno di presentarsi o roba simile, anche se io personalmente, caso mai dovessi incontrare un mio amico che sta urlando appunto il nome di persone a caso in giro per strada, la prima cosa che gli consiglierei sarebbe certamente un giro al TSO. Il secondo metodo si chiama invece ricerca passiva, dove lo smartphone si mette ad ascoltare in silenzio le reti wifi che entrano nel suo raggio d'azione, le quali a loro volta inviano costantemente il proprio nome ai dispositivi che si trovano nelle vicinanze. Essendo appunto lo smartphone un dispositivo in questo caso passivo, qualora dovesse sentire il nome di una rete wifi che conosce e alla quale quindi si è già connesso in passato, ecco che lo farà nuovamente in automatico. E qui per ovvi ragionamenti sarebbe come se tutti i vostri amici andassero in giro ad urlare il proprio nome H24 per la strada e qualora voi doveste sentirne uno, ecco che gli andreste incontro e prendendolo per mano andreste entrambi al TSO. Tuttavia, per fortuna, gli smartphone di ultima generazione sono anche molto più intelligenti e per questo evitano di sbandierare ai 420 la loro lista di reti preferite, limitandosi quanto più a chiedere a ciascuna rete wifi What's your name, Angel? alla quale esse andranno a rispondere banalmente con il proprio nome e qualora questo sia registrato e presente all'interno della nostra lista di reti preferite, ecco che sarà possibile eseguire un collegamento in automatico. Hai ascoltato tutto? Hai ascoltato bene? Bene, perché in caso affermativo ti sarai accorto che questo meccanismo di comunicazione tra il tuo smartphone e le reti wifi presenta una gigantesca falla di sicurezza, ovvero non viene in alcun modo verificata l'attendibilità della rete a cui ci si connette rispetto all'elenco salvato nel tuo smartphone. Pertanto ti chiedo, cosa succederebbe se qualcuno si mettesse a creare delle finte reti wifi attribuendo loro un nome scelto da, diciamo, una lista di nominativi comuni tramite cui la gente suole chiamare il wifi di casa propria? Che cosa succederebbe se tra di esse vi fosse anche il wifi di casa tua oppure dei tuoi nonni, della palestra, del bar o di quell'amico da cui dai a spaccarti di pizza ogni sabato sera? Che cosa succederebbe che il tuo smartphone crederebbe di trovarsi esattamente in quel preciso luogo dinanzi a quella rete wifi a cui si è già collegato in passato? E qui entriamo in un discorso che per alcuni di voi sarà forse, spero, mi auguro vivamente familiare, in quanto di alcuni dei suoi punti ne abbiamo già discusso nel video inerente le reti wifi pubbliche uscito di recente sul canale, il quale come sempre se vi siete persi vi lascio linkato qui on screen e sotto in descrizione. In campo informatico questa specifica criticità è detta attacco man in the middle, ovvero letteralmente uomo nel mezzo, in quanto il malintenzionato in questione si frappone letteralmente tra voi e la cosa che volete fare, in questo caso collegarvi ad una rete wifi, deviando la vostra connessione ad un'altra rete fittizia, spesso e volentieri creata dagli stessi, di modo da riuscire ad ottenere l'accesso completo al vostro dispositivo e a tutti i dati che invia e riceve. I casi più gravi avvengono solitamente all'interno di luoghi pubblici e molto affollati, tipicamente quindi supermercati, parchi di divertimento, mezzi pubblici e via discorrendo, dove il malintenzionato di turno cerca in tutti i modi di farvi abboccare e riuscire così a rubarvi più dati possibili. Quante volte ti è arrivata una richiesta da Instagram, Facebook o altri social network o app del caso che cito testualmente per la tua sicurezza ti chiedevano di reinserire la password ed effettuare nuovamente l'accesso? Sicuramente non poche, ma ti sei mai domandato se quelle pagine che ti venivano mostrate subito dopo fossero effettivamente pagine ufficiali? Tranquillo, so che la risposta è no, ma non preoccuparti, dopo tutto sono qui per questo. E se invece stai pensando delle cose come Ah sì certo, perché questa gente prende di mira proprio me, ma figurati! Mi spiace dirtelo, ma è esattamente così che funziona, perché hackerare la gente comune e noi signori nessuno è nettamente più facile che fare lo stesso con banche, enti o persone in vista. Se infatti vi trovate connessi ad una rete wifi pubblica, cosa da non fare assolutamente, mi raccomando, cioè piuttosto comprate un piccione, addestratelo, legategli una pergamena alla zampina e mandatelo a spedire il messaggio in prima persona, chiaro? Uno dei modi più classici e comuni, mediante il quale vengono sottratti i dati e gli utenti, è proprio mostrare delle finte pagine web generate da quelle reti malevoli a cui vi siete sfortunatamente collegati. E se avete visto il video che citavo poc'anzi, e nel caso mi raccomando andatevelo a riprendere, saprete che in questi casi il furto delle credenziali di un social network è solamente la punta dell'iceberg. Tramite questi e tanti altri metodi si possono infatti ottenere una serie di dati estremamente personali su qualsiasi persona, tramite cui il malintenzionato può riuscire a inviare messaggi o email per conto vostro svuotarvi il conto corrente e persino tracciare la vostra posizione. Insomma, detto in soldoni, reti wifi pubbliche uguale cacca. Bene, all'ora del terrorismo credo di avervene fatto a sufficienza, per cui adesso andiamo a vedere che cosa possiamo fare per tutelarci al meglio, anche se, come dico sempre, qualora siate stati presi di mera da uno bravo, perché ce ne sono, potrete fare davvero ben poco. Prima di tutto, nemmeno a dirlo, prendete l'abitudine di disattivare il wifi del vostro smartphone quando non lo utilizzate. Secondo, fate assolutamente pulizia nella lista reti preferite del vostro smartphone, eliminando tutte quelle non necessarie, come ad esempio il wifi di quella baita sui Monti Appalacchi, dove siete stati otto anni fa e che mai più rivedete in vita vostra. Terzo, cambiate il nome della rete wifi di casa vostra, evitando di utilizzare nomi facilmente reperibili all'interno di una lista di termini più comuni. E qui vi prego, perché l'ho visto accadere ma non posso fare nomi, non rinominate la rete wifi di casa vostra con la password necessaria a connettervici, ok? Quarto, disabilitate la connessione automatica del vostro dispositivo, ovvero, e qui dipende dallo smartphone che possedete, andando sulle impostazioni di geolocalizzazione troverete due voci relativi alla scansione wifi e a quella bluetooth. Disattivatele! Di default, infatti, per tutti i dispositivi, sia Android che Apple, è attiva la scansione automatica delle reti wifi circostanti, e questo anche se il wifi è spento. E infine, gente, come promesso vi rivelerò come recuperare la password di una qualsiasi rete wifi a cui vi siete già connessi in passato, ma che avete dimenticato. Nella fattispecie questo trucchetto funziona solamente su PC, ma se volete il corrispettivo lato mobile non avete che da chiedere. Aprite il menu di Windows e digitate CMD, quindi cliccate con il tasto destro su Prompt dei comandi e selezionate Esegui come amministratore, quindi riportate per filo e per segno quanto leggete in sovraimpressione e che troverete ovviamente anche riportato qui sotto in descrizione, e infine premete Invio per vedere apparire una lista comprendente tutte le reti wifi memorizzate dal vostro PC. A questo punto identificate la rete che vi interessa, come ad esempio nel nostro caso DOC, e digitate questo secondo comando avendo cura di inserire al posto di Wi-Fi name il nome della stessa, ovvero nel nostro caso quello che leggete in sovraimpressione, ed analizzando il risultato seguente ecco che troverete accanto alla voce Key Content la vostra tanto agognata password. E con questo è tutto gente, io come al solito mi auguro vivamente di avervi interessati e coinvolti quanto meno un pochino in questo ennesimo viaggio a tema informatico, ma soprattutto mi raccomando non sottovalutate mai questo genere di rischi, abbiate sempre la massima cura dei vostri dati personali, perché non c'è davvero niente di peggio che fornire informazioni sensibili su di noi a persone che nemmeno conosciamo. E ricordandovi di spollicciare il video, condividerlo con i vostri amici e commentare come se non ci fosse un domani, io vi do appuntamento a giovedì prossimo sempre alle 12.30 su questi schermi. Non cambiate canale!